Sono stati qui a Corallo del Mundo e qui con noi, 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 siamo portati un lavoro di tutto il difendimento della Tavallia, il segretario generale e tutti i dirigenti del comune, ovviamente Carabinieri che avevamo detto prima, la mia segreteria, la diretta stampa, la professione avvocato e ovviamente i ragazzi di giornalisti e i ragazzi di tutti i giornalisti. Grazie ancora e buon bel anno. Grazie.